Per noi è un po' ritornare alla normalità, dopo un po' di anni passati alla scuola, finisci per definirlo un po' come, forse troppo solucinato, però come la tua casa, quindi rientrare e abbracciare gli amici che non vedi da qualche mese è certamente una grande emozione. È il giorno del ritorno per molti allievi ordinari nelle strutture residenziali della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Un ritorno alla normalità, quasi un ritorno a casa, dopo sei mesi di allontanamento forzato dovuto all'emergenza Covid-19. Emergenza che costringe gli allievi a sottoporsi agli opportuni controlli prima di raggiungere le camere da letto della struttura. Dalla scorsa settimana a piccoli gruppi, li abbiamo aspettati e accolti prima nelle strutture esterne, nelle nostre foresterie, hanno fatto presso la Fondazione Monasterio il test sierologico e se negativo i ragazzi sono stati accolti nelle nostre strutture. È forte l'emozione degli allievi che da oggi tornano a rivivere gli spazi del Sant'Anna. Riuscire a ritornare è una cosa bellissima e che aspettiamo oramai da sei mesi. Poter utilizzare la biblioteca, poter utilizzare tutti i libri e le risorse che ci offre la scuola è una cosa fondamentale, soprattutto per uno studente di giurisprudenza per il quale la ricerca bibliografica è fondamentale. È una grande emozione, dà tanto perché comunque riprendere anche la vita collegiale significa molto, ma simbolicamente rappresenta anche un punto di ripartenza fondamentale per tutti noi allievi.